Il segnale è che il nostro Paese può garantire un sistema di giustizia civilistica rapido e adeguato a quelle che sono le esigenze anche delle imprese che vengono. È una sfida che combattiamo insieme. Da una parte la politica deve trovare gli strumenti migliori, dall'altra parte chi lavora all'interno dei tribunali, chi organizza la giustizia dal punto di vista quotidiano ha lo stesso obiettivo del legislatore in questo. Io credo che su questo rafforzare questa alleanza e quindi contribuire ognuno per la sua parte a fare una riforma che sia più adeguata possibile alla sfida è anche uno degli oggetti dell'appuntamento di oggi, cioè che le nostre riforme siano quello che il mondo della giustizia civile si aspetta sotto il profilo di una norma che sia effettivamente efficiente e adeguata alla sfida che abbiamo davanti.